Ma sapete cosa state guardando? Si tratta di termoformatura plastica, un processo di stampaggio a caldo. È utilizzata per creare una vasta gamma di prodotti, tra cui vaschette per alimenti, blister, parti interne di elettrodomestici, componenti automotive e, come vedete dal video, delle coperture. Il processo coinvolge il riscaldamento di un foglio di plastica che viene poi applicato su uno stampo e fissato tramite sottovuoto o pressione, come in questo caso. Successivamente la forma plastica raffredda e indurisce. La termoformatura plastica offre diversi vantaggi economici, come l'utilizzo di basse pressioni che permettono di risparmiare sui costi degli stampi e ridurre i tempi di produzione. Direi che dopo tutto anche questa è ingegneria.